Giornata conclusiva del progetto Salviamoci la Vita. Siamo con l'Ispettore Superiore della Polizia Stradale di Siracusa, Francesco Giuffrida. Sì, salve, buongiorno. Abbiamo accettato noi ben volentieri questo invito da parte dell'Istituto Ruiz di Augusta, in quanto quando si parla di sicurezza stradale noi siamo in prima linea, perché la Polizia Stradale non fa solo multe, quindi repressione, anche prevenzione o rilevo agli incidenti stradali, ma anche opera un'attività molto forte in ambito di prevenzione come educazione stradale. Giriamo vari istituti, tutti i livelli, dalla scuola materna alla primaria alla secondaria, ma soprattutto cerchiamo di incontrare i giovani degli istituti superiori che sono quelli, i futuri conducenti che si speri cerchino di rispettare un po' tutte le regole, che purtroppo oggi in Italia il fenomeno dell'infortunistica è ancora molto elevato. Molte giovani vittime, molti ragazzi perdono la vita a seguito appunto di incidenti, perché c'è l'uso di alcol, l'abuso di alcol, stanze stupefacenti, non rispettano le regole. Quindi ben vengono questi incontri, noi siamo sempre ben volentieri e disponibili a incontrare un'istituzione fondamentale come è la scuola. Rispetto a qualche anno fa la situazione, soprattutto nei fini di settimana, le stragi del sabato sera, che le cronache dei giornali e delle tv hanno riportato tristemente, è migliorata? Sì, allora in ambito nazionale c'è stato sicuramente un calo, per quanto riguarda l'ambito nostro locale, perché la polizia stradale di Siracusa opera non solo a Siracusa, ma andiamo dalla zona sud, da Rosolini, Portopallo, fino alla zona di Lentini, andando anche oltre, fino al limite di provincia con Catania. Abbiamo avuto un enorme calo di ragazzi trovati sotto ancora l'abuso di sostanze alcoliche, quindi il calo c'è stato, è anche notevole, ma questo è anche dovuto all'attività preventiva e repressiva, dobbiamo dire che è stato svolto in questi anni dal nostro coordinato, dal nostro dirigente, comandante, capo di casa, che è riuscito ad imprimere nei ragazzi, a seguito anche di vari incontri che lui ha fatto nei vari studi superiori, una cultura diversa sul rispetto delle regole e soprattutto delle norme della circolazione stradale. Quali sono le infrazioni principali, diciamo, quelle che statisticamente sono più rilevanti rispetto ai giovani, diciamo, i giovani guidatori, quali sono le infrazioni che compiono maggiormente? Ma le infrazioni che compie un giovane, anzitutto, è l'uso del cellulare, la velocità, il rispetto, il mancato rispetto dello stop e anche l'uso e l'abuso di sostanze alcoliche, nonché sostanze stupefacenti. Queste sono le cause principali, ma dobbiamo dire una cosa, che i tre fattori principali di un incendio stradale sono la strada, il veicolo e la macchina. La percentuale maggiore di responsabilità ce l'ha l'uomo, perché la macchina può andare a 200, e la strada può avere dei suoi problemi, ma se un conducente riesce a gestire, comunque, a rispettare le norme, quindi se in quel tratto di strada c'è un limite, ci sarà un motivo, perché qualcuno l'ha ammesso, e quindi rispetto alle norme della circolazione stradale, sicuramente molti incidenti non si verificherebbero. Negli ultimi anni il fenomeno del mancato uso del casco, invece, è diminuito draschiamente nella nostra provincia. Sì, questo pure, c'è stata una diminuzione del mancato uso del casco. Anche, dobbiamo questo ammetterlo, all'attività repressiva che hanno fatto le varie polizie locali, in ambito cittadino. Ma forse anche perché i ragazzi, comunque, hanno capito l'importanza del casco, ma soprattutto quando è allacciato. Perché ancora, purtroppo, c'è qualcuno, non solo non lo usa, ma anche lo usa in modo scorretto, perché utilizzare il casco senza allacciato è come non averlo. Le statistiche dicono che i morti negli incidenti stradali sono in diminuzione. Per quanto riguarda la provincia di Siracusa, gli ultimi dati cosa attestano? No, per fortuna anche la provincia di Siracusa ha registrato un sensibile, un enorme calo negli incendi stradali con esito mortale. Anche è vero che il fatto che da qualche anno è stata aperta l'autostrada Siracusa-Catania, quindi il flusso maggiore di traffico ce l'abbiamo in quel tratto, c'è stato un sensibile calo di incidenti con esito mortale. Qualcuno ancora c'è, ma rispetto agli anni passati abbiamo registrato un calo non indifferente. Qualcuno ancora c'è, ma rispetto agli anni passati abbiamo registrato un calo non indifferente. Qualcuno ancora c'è, ma rispetto agli anni passati abbiamo registrato un calo non indifferente.